Se sei un neofita e non sai che cosa fare, DP Modellismo e Nitro-RC Roma sono la soluzione. Levi di gas, giri, dritta, vai di gas. Vi faccio vedere, parlando, ok, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. In qualsiasi giorno della settimana ti basterà contattarmi e io sarò disponibile per venire insieme a te in pista e dedicarmi completamente a te. Settaggio della macchina, guida, come si affronta una curva, come si affronta un salto, vedrai che a fine giornata sicuramente avrai migliorato il tuo tempo sul giro. Vieni in capo, vieni in gas, quando hai letto da un salto, atterri gas. Eh, facci cosa, se tu atterri solo con le ruote posteriori, non ti puoi aspettare a terenza, devi atterrare con tutti i quadri, quindi atterri, boom, gas, vedi che la macchina va bene. E mi raccomando, curva, leva gas e poi la ridai quando l'hai completata, vai dai quarti in posta. Ride or die, 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 collaborations, love that he fly, know that they ride or die. Vuoi maggiori informazioni? Sai dove trovarmi, Facebook, Instagram e WhatsApp, io sono lì e ti aspetto, ciao! Grazie a tutti.